Buongiorno da Telpress Italia, primo piano, nota stampa, di giovedì 7 aprile. Più risorse per la difesa, rinvio alla manovra, scrive il Sole. Dopo un conflitto politico esasperato, l'aumento delle spese militari fino al 2% del PIL viene rinviato e non compare, come era chiaro fin dall'inizio, nel DEF. Lo scontro era stato aperto dal leader del Movimento 5 Stelle Conte, tanto da impedire al DEF di recepire le intenzioni del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, pure disponibile all'incremento richiestoci dalla Nato con gradualità fino al 2028 e non più al 2024. Vincenzo Camporini sul Corriere prova ad analizzare le spese per la difesa, chiedendosi dove spendere in Italia armi moderne e addestramento. Quando si parla di spese per la difesa, scrive ciò che è importante è la loro struttura. È una valutazione da tutti condivisa che un sano bilancio debba prevedere il 50% per il personale, in pratica gli stipendi, il 25% per l'acquisizione e l'ammodernamento dei sistemi d'arma e il 25% per l'esercizio, cioè l'addestramento e per la manutenzione in efficienza dei mezzi. In Italia siamo oggi ben lontani da questi valori, con una spesa per il personale ben al di sopra del 70%, il 18% per l'ammodernamento e meno del 10% per le attività addestrative di manutenzione per le dotazioni. Un messaggio arriva anche dall'alto rappresentante Weburel, che dice no a spese militari senza criterio, come riportato dal manifesto. Il fatto propone invece un escursus del dibattito in Italia sulle spese militari, partendo dal 2014 e dalla proposta di Renzi di abbassare le spese in ambito di difesa, ricordando come sei mesi prima nel vertice nato in Galles, Renzi, appena insediato, vi è demandato ai suoi fedelissimi Lorenzo Guerini, capogruppo in Commissione Difesa, e Graziano Del Rio, di scrivere un piano per tagliare le spese militari. Si tratta di precedenti che, secondo quanto scrive il quotidiano, vanno in controtendenza con la linea attuale anche dello stesso Guerini, che chiede di alzare le spese militari fino al 2% del PIL. E sempre il fatto analizza chi sta guadagnando dal conflitto in Ucraina, armi e gas, i colossi statunitensi guadagnano dal conflitto, e gli stati UE sono clienti titola. I big della difesa fanno festa, con aumenti a due cifre. Intanto, come riportato da stampa, la D.D. Leonardo Profumo si difende in aula. Per D'Alema, niente mandati sulla Colombia. L'ex premier, anche in relazione alla sua storia istituzionale, ha prospettato alla società migliori potenzialità per la conclusione di un contratto, ma fin da subito ha chiarito che sarebbe rimasto del tutto estraneo alle forniture e alle eventuali attività di intermediazione. Queste le parole di Profumo in audizione di fronte alla Commissione Difesa del Senato. In esteri, una NATO globale, la risposta alleata a Pechino e Mosca. La guerra può durare anni. Idea? Di fornire armi pesanti, scrivono Repubblica Corriere Tutti. Al vertice dei ministri degli esteri, Stoltenberg presenta l'idea che coinvolge i partner del Pacifico. Verso il riarmo massiccio del Giappone, Blinken. Agli ucraini dieci sistemi anticarro ogni tank russo. L'Ucraina può battere l'armata russa, ma Kiev insiste sui jet. Orban propone un incontro tra Putin e Zelensky a Budapest. La guerra in Ucraina impone una risposta immediata ed una di lungo periodo. La prima è aiutare ad armare Kiev e rafforzare il fianco est dell'Europa con 250.000 uomini. La seconda risposta è geostrategica alla nascita di una NATO mondiale. Intanto gli Stati Uniti arrivano nuove sanzioni alle banche russe. Torneranno ai tempi dell'URSS. Colpite anche le due figlie di Putin, che hanno cambiato nome, come scrivono Repubblica e tutti i quotidiani. Biden annuncia altre restrizioni contro oligarchi e familiari. Nascondono nei conti i soldi del padre. Si continua però a combattere. La ritirata da Kiev è una sconfitta dei russi. Come influenzerà la battaglia per l'Est? Si chiedono Corriere e Messaggero. L'abbandono della capitale da parte delle truppe di Mosca riduce le ambizioni politiche di Putin. Gli ucraini, con il morale alto, preparano il contrattacco. Nell'inferno di Kramatorsk, i russi cercano la rivincita. Qui sarà guerra totale, dicono. La città dell'Est, nella morsa di una grande assedio a Tenaya. Resistenza degli ucraini, che schierano truppe di elite. E la popolazione è in fuga dalla sacca di Slovyansk. Qui si deciderà la guerra, scrivono Repubblica e Messaggero. Putin cerca la Tenaya per prendere tutto il sud entro maggio, ma difficilmente riuscirà a rigenerare in tempo le divisioni sconfitte a Kiev. Governo dell'Ucraina e autorità locali chiedono ai civili del Donbass di evacuare la regione in fretta per evitare di restare intrappolati nei combattimenti contro i soldati russi, che a questo punto sono diventati una certezza. Voto in Francia, Mélenchon, il populista, che sogna l'Eliseo, ma può aiutare Le Pen, che tenta il sorpasso, scrivono Repubblica e altri. Domenica, primo turno in Francia, la leader sovranista sale nei sondaggi e minaccia Macron. La gente non crede più al lupo cattivo, dice. Ultimo inciampo del presidente, il caso giudiziario sulle tasse non pagate da un consulente del governo. Il candidato radicale di sinistra è il terzo incomodo tra Macron e Marine Le Pen. Al secondo turno, un terzo dei suoi elettori sceglierebbe invece l'estrema destra. In economia, in primo piano le parole di Draghi, meglio la pace o il condizionatore. Dal DEF, 5 miliardi per famiglie e imprese, scrivono Corriere e tutti. Il Premier, se sul prezzo del gas la UE non decide, potremmo andare avanti con provvedimenti nazionali. Nella maggioranza le battaglie identitarie però non aiutano. Cadono intanto le borse mondiali, la Russia va verso il default, scrive Stampa. Il Cremlino ripaga i bond in rubli, ma le banche rifiutano i versamenti. La Fondo degli Stati Uniti, Putin ha buttato decenni di sviluppo. Il commissario UE al bilancio, Han. Le sanzioni stanno funzionando, ma l'embargo sarà difficile e aggiunge, serve un piano Marshall per Kiev. Recovery bis, prima spendiamo bene i soldi già stanziati. Il commissario UE al bilancio, Timmermans, intervistato dal Corriere, sottolinea. L'Europa risponde per gradi, in questo modo. Resteremo uniti, pagargli il gas ai figli di Putin, titola invece il foglio. Sul fronte economico si registra la grande frenata, come titola Stampa, crescita al 3,1% e deficit al 5,6%, per riaiuti un tesoretto da 5 miliardi. Lo stop al gas e al petrolio russo può costare oltre il 2% del PIL e anche 570 mila posti di lavoro, come scrive Libero. L'allarme arriva proprio dal DEF. Senza il gas, l'Italia va in recessione. Governo pronto agli aiuti, come scrive il messaggero. Le conseguenze di un eventuale embargo partono dal prezzo del metano, che salirebbe a 200 euro a megawattora. Il Tesoro prepara però le contromisure, sia a nuovi fondi in caso di necessità. Il sole parla di debito giù al 147%, inflazione al 5,8%, il PIL punta al 3,1%, deficit al 5,6%. La crescita tendenziale rallenta al 2,9%, due decimali di spinta attesi dai nuovi sostegni entro aprile. Con il disavanzo invariato, spazi fiscali per 9,5 miliardi, ma 4,5 sono già ipotecati dal tagliaprezzi di marzo. Nei conti del governo però spunta all'ospetto della recessione, come scrive Repubblica, presi in considerazione due scenari diversi. In caso di stop delle forniture russe, il prezzo del gas raddoppierebbe a partire dal prossimo inverno. In politica, il messaggero parla di maggioranza agitata, con Lega e Forza Italia che vanno all'assalto sul fisco. Il premier pensa alla fiducia, in commissione si replica lo scontro che si era già effettuato sul catastro. Primi voti, il governo resiste, l'invito a Salvini, capirà che è meglio dare risposte ai bisogni reali dei cittadini. La stampa segnala scintille tra Meloni e Letta, un suicidio a tagliare il gas, duello tra i leader più atlantisti, il segretario del PD, Orbán Unaiattura, a Strasburgo show dell'ex leghista Donato, Buccia, ho molti dubbi. E proprio su stampa arrivano anche le parole di Pierluigi Bersani, giusto aiutare la resistenza di Kiev, ma si lavori per la pace e la difesa UE. Salvini pacifista sta cercando di salvarsi in corner, ma intanto l'Oda Orbán. Anche il Corriere parla di muro della Lega sulla delega fiscale, ma il governo non si ferma, non ci sono le condizioni, ma Draghi tira dritto, ci ha vinto due volte, si va avanti. Tra i temi, come riportato dal giornale, anche quello della riforma della giustizia, che procede a rilento, il Premier no alla fiducia. Oggi vertice decisivo, lunedì l'intero testo in commissione, costa se nessuno fa giochetti. Ma intanto, come riporta Repubblica, da Busto Orzizio a Nola, le toghi si ribellano alle pagelle sulla carriera. E infine il virus, un italiano su quattro, ha avuto il Covid, scrive la stampa, superati i 15 milioni di casi, resta la mascherina in ufficio e il governo rende più facile prescrivere gli antivirali. Speranza, la circolazione del virus è alta, la fine dell'emergenza non significa la fine della pandemia e l'UE annuncia la quarta dose solo agli over 80 per tutti in autunno i vaccini aggiornati, come scrive Repubblica. Anche per oggi, da Telpress Italia è tutto, l'appuntamento torna domani.